buona giornata quante cose effettivamente cambierebbero se si vuole salvare la sostanza e quante cose cambierebbero appunto nel salvare la sostanza con lo stesso impegno con cui uno vuol salvare l'apparenza spesso ci impegniamo tantissimo nel salvare l'apparenza chi lo sa se queste forze impegnate diversamente impegnate altrove le stesse forze con la sostanza o nella sostanza certamente avremo una maniera diversa e certamente cambierebbero anche tante cose di noi penso ai rapporti in casa penso ai rapporti tra colleghi penso ai rapporti tra amici quanto importante in effetti le maschere ci fregano e nello stesso tempo fregano anche i legami soprattutto che abbiamo e che siamo chiamati a vivere soprattutto ogni giorno il signore ti illumina e ti benedica buona giornata grazie 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 grazie